Marco Enrico Bossi, organista italiano, maestro dell'arte e dell'informazione, concertista dalla tecnica inaciativa. Ogni sua esecuzione aveva il significato di un rito e le folle lo clamavano come il più grande organista italiano dopo fresco d'acqua. La sua produzione è influenzata da Francia e dai maestri tedeschi dell'Ottocento e guarda all'ordano sinfonico Romano. Lino di Gloria ha bozzato a Napoli nel 1891 la tonalità di Repiesi Spinore e tende la sua definitiva tonalità in Mive Molle di Onore col titolo di Westminster Revere. Si legge in una recensione, riuscitissimo è lino di Gloria, la cui prima idea n'acqua nella mente di Enrico durante la visita fatta alla celebra partia di Westminster di fronte alle toppe e reali in crisi. Tale visitaria deve restare al 1879, cioè al primo viaggio di Bossi a Lutra. Il pezzo è geniale sotto ogni aspetto, nei maestosi episodi affidati all'ordano solo per il tema buccano che sboccia eroico e solente e raggiunge epiche sonorità. Al corno è affidato il seguente testo, costituito dai versetti 1 e 5 del Salmo 149. Cantate al Signore, canti con uomo. La sua lode è nell'assemblea dei fedeli. Esultino i fedeli della gloria, sorgano i libri dai loro giacini. Ricordo che questo brano è stato registrato nel mese di giugno in questa splendida chiesa neogotica, dalle corali che vedete le mie spalle. Ed è ora disponibile in me, in tale quattro borde della chiesa, con un piccolo contributo di 10 euro. Ed ora, di Marco Enrico Bossi, ascoltiamo Inno dei Gloria. Dirige il maestro Valerio Pesani, all'organo della chiesa, all'organo della chiesa, all'organo della chiesa, all'organo della chiesa. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.